Intanto vi ringrazio dell'accoglienza, noi giriamo un po' tutta l'Europa e non è sempre facile trovare accoglienze così importanti, vi ringrazio dell'ospitalità perché abbiamo trovato veramente grande accoglienza. Noi abbiamo ben chiaro qual è il nostro percorso da fare, nel senso che questa è una nazionale che l'anno scorso ha fatto un percorso molto importante, che si è compiuto poi con la finale, è persa solamente i supplementari, l'unica partita che questa nazionale aveva perso in quel percorso. Adesso abbiamo davanti un'altra sfida che è quella di arrivare a maggio ai mondiali, ci siamo qualificati con quel risultato in mondiali, vogliamo arrivarci e fare la nostra figura come abbiamo fatto l'anno scorso. Chiaro che è un percorso che si svolge in questi 6-7 mesi, un po' complesso insomma perché abbiamo un gruppo vasto, molti di quei giocatori che hanno fatto molto bene in quell'europeo sono ambiti anche dalle altre nazionali e noi ne siamo molto orgogliosi. Abbiamo qui un gruppo di ragazzi che in parte è quel gruppo, in parte sono dei ragazzi che andiamo a valutare per cercare di ampliare la rosa e capire poi a maggio con che squadra potremo disputare quel mondiale. Quindi parlare di rivincita mi sembra un po' eccessivo anche perché l'importanza di quella partita chiaramente lo potete capire da soli, è una partita importante e comunque noi siamo stati molto soddisfatti e molto orgogliosi del percorso che abbiamo fatto e di quello che i nostri ragazzi hanno anche trasferito in termini di entusiasmo, in termini di attaccamento alla maglia. Insomma hanno fatto, a mio modo di vedere, hanno fatto vedere come ci si comporta in nazionale. Forse parlare di rivincita è troppo, sicuramente sarà una partita che ci metterà a dura prova, noi tra l'altro veniamo già ad un'altra partita molto importante in Inghilterra in cui anche lì pur non soddisfatti del risultato abbiamo mostrato comunque delle qualità anche con dei ragazzi esordienti in alcuni casi. Dobbiamo preparare questo percorso, sarà una partita molto difficile perché loro ci sono praticamente tutti e noi abbiamo un po' da verificare alcune situazioni, ma io credo che mostreremo l'orgoglio di sempre. La nostra nazionale, almeno parlo per la mia, sicuramente è stata una nazionale che ha mostrato come minimo sempre questo tipo di orgoglio, questo tipo di mentalità, questa voglia di essere propositiva e di fare un buon calcio. Siamo molto motivati perché di occasioni per preparare il mondiale non ne abbiamo tante. Abbiamo questo raduno, abbiamo un raduno il mese prossimo, poi andiamo a marzo. Le occasioni per prepararci non sono tante, quindi non le possiamo sparcare. Per cui faremo una partita vera, faremo il massimo di quello che è il nostro meglio. Sicuramente la presenza di pubblico ci aiuta, aiuta e stimola i ragazzi a fare ancora di più. Ci auguriamo di mostrare quelle che sono le nostre caratteristiche di grande serietà e di grande applicazione in quello che facciamo. Se parliamo di puntare al gioco, questo è un principio che noi abbiamo adottato in pieno in tutte le nazionali. Cerchiamo, dalle più piccole alle più grandi, di puntare al gioco, puntare a un gioco di principi, non tanto di schemi, non tanto di uniformarsi al sistema di gioco. Perché chiaramente ci sono alcune nazionali, alcune annate, più che nazionali, perché noi c'è da tenere presente che ogni annata ha le sue prerogative. Noi cerchiamo di andare a pescare i giocatori migliori, non è detto che nei giocatori migliori ci siano sempre le due ali, le ponte, i due centrocampisti piuttosto che tre. Questa per esempio è una nazionale ricca, secondo il mio punto di vista, di buoni centrocampisti, almeno ne ha parecchi, quindi abbiamo scelto di giocarne con tanti. È una nazionale che fino agli europei non ha mostrato sugli esterni grande scelta, quindi abbiamo dovuto escludere un pochettino gli esterni offensivi. Quindi noi non abbiamo fatto un discorso di schemi di gioco, abbiamo grande uniformità di principi di gioco. Il principio basilare è quello di cercare di essere molto propositivi, di fare un gioco tecnico, di fare un gioco a terra. È una cosa che questa nazionale in particolare, a mio modo di vedere, ha mostrato nell'annata scorsa e anche nella precedente, perché è già il terzo anno che alleno questa annata. Credo che siamo sulla buona strada, poi da qui a dire, cioè qui qualità ce ne sono. Poi noi dobbiamo interrogarci su come mai delle volte queste qualità nel corso degli anni un pochettino le perdiamo. È forse il percorso che dobbiamo fare a fare ai ragazzi, che va valutato meglio, perché le qualità ci sono sicuramente. Lo sforzo che il Club Italia fa è molto grande, in termini di organizzazione, di persone, di divisionature sul territorio, c'è una grande organizzazione da questo punto di vista. Quindi i ragazzi non ce ne scappano, questo è sicuro. Il discorso della difficoltà di trovare, di tesserare o di trovare comunque dei giocatori anche di provenienze diverse, culturali o così, di paesi diversi, c'è in Italia. Infatti noi, per esempio, nel nostro caso, lo viviamo nella nostra pelle, perché tante volte i top club nazionali sono pieni di giocatori oriundi. Noi questa è una cosa che cominciamo a fare adesso con i ragazzi di seconda generazione. Quindi abbiamo sicuramente dal punto di vista delle giovanili questo problema in più, perché noi siamo venuti, non so, per farvi un'ipotesi, per rendere l'idea, siamo venuti dall'Inghilterra. Nell'Inghilterra 10 giocatori su 11 erano ragazzi di colore, che sapete benissimo che a pari età, soprattutto nei giovani, c'è un po' di differenza dal punto di vista della maturazione fisica. Della Francia, nello stesso Portogallo, molti giocatori sono... E' chiaro che noi questo rappresenta un'ulteriore difficoltà da superare. Devo dire che cominciamo a riuscirci bene, ma sicuramente è una difficoltà oggettiva. C'è da tenere presente anche che adesso nell'annata nostra, questa qui, che stiamo a 99, abbiamo fatto la scelta di portare via solo il 99 e non il 98, perché l'ander 20 sarebbe costituita anche dai 98, volendo, proprio perché poi invece i mondiali possiamo farlo solo con il 99. E quindi per esempio in Inghilterra giocava con 6-7-98. Insomma ci sono una serie di cose. Sicuramente noi allargare, secondo il mio punto di vista, il bacino dove pescare significa anche nel momento in cui l'integrazione sarà più completa, avanti con gli anni, perché noi siamo partiti dopo rispetto a paesi come la Francia, come l'Olanda, dove avevano le colonie, avevano questo tipo di cose, Portogallo, la stessa Germania, comunità turche, insomma, noi su questo penso che nei prossimi anni, adesso già nelle nazionali più piccole, cominciamo a avere dei ragazzi che magari hanno altre origini, insomma. Nella nostra, per dire, c'è solo Ken, che qui non c'è, ma ci sarebbe solo lui, insomma. E' un'altra difficoltà che noi dobbiamo sicuramente superare, insomma, col tempo. No, i calciatori che sono qui stanno tutti bene. Purtroppo abbiamo perso Cristian Capone per un po' di tempo e non abbiamo potuto portarlo in questo raduno, perché con il Pescara si è fratturato un piede, quindi non abbiamo potuto portarlo. Abbiamo, come vi ho già detto, molti giocatori sub in Under 21, grazie a Dio, perché vuol dire che stanno facendo molto bene. Abbiamo dei giocatori, tutti i 6-2 mila, diciamo, i 5-6-2 mila che erano presenti agli europei, che molti hanno giocato titolare sotto età, li abbiamo lasciati, diciamo, all'Under 19, perché ha ottenuto la qualificazione adesso in Estonia. I ragazzi che sono qua stanno tutti bene, hanno una buona condizione atletica, hanno un grande entusiasmo, ci sono appunto dei ragazzi che magari hanno anche poche presenze nella nazionale e che domani giocheranno titolari, ma hanno qualità. Il nostro gruppo non è solo il gruppo che abbiamo portato via agli europei, che era composto da 20 giocatori, ma abbiamo sempre pescato nell'arco di 30-35 giocatori, e questi che sono qua sono tutti i giocatori che fanno parte di questo gruppo, insomma, di 30-35 giocatori. Sul piano delle scelte dobbiamo ancora verificare un paio di situazioni, sicuramente farò 4-5 cambi rispetto alla squadra che ha giocato con l'Inghilterra, perché trovo giusto, avendo poco tempo per valutarli, trovo giusto farli girare, insomma, nelle occasioni in cui ho per vederli, voglio vederli, insomma, ecco. Le nostre generazioni, dopo ognuno ha giocato per il livello per cui era capace, ma venivano da quella cultura, quella della strada, cioè le 4 ore di allenamento per i dilettanti, le 4 ore di allenamento alla settimana, erano le ultime di un lungo percorso di calcio durante la settimana. Ora ci viene a mancare tutto il resto, le 4 ore sono rimaste le stesse, ma ci viene a mancare tutte le altre ore che facevamo sulla strada. È una cosa anche su questa che dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni, perché 4 ore non bastano né per rendere un ragazzo coordinato, né per dargli quell'esperienza di calcio che serve per arrivare ad altri livelli. Altri stati l'hanno risolta attraverso il rapporto tra scuola e sport, hanno sostituito la strada con la scuola, cioè con l'inserimento dello sport massiccio all'interno di quello che è la scuola. Ha anche stati molti più piccoli di noi, che producono molti calciatori più di noi, ma non solo molti calciatori, il problema noi lo vediamo magari dal punto di vista del calcio e sembra un problema rispetto sul calcio, ma noi abbiamo delle difficoltà grosse anche proprio sugli sportivi in generale, cioè facciamo fatica a produrre sportivi in generale, ma proprio perché facciamo poco sport e quando lo facciamo lo facciamo sempre molto tardi, quindi è anche difficile arrivare a un buon livello. Io credo, è opinione mia personale, che fino a che noi non sistemeremo questo problema di qualche volta di contrasto tra sport e scuola, perché i ragazzi che fanno sport a questo livello spesso devono rimetterci anche con la scuola. e riusciremo a trovare un modo di inserire la scuola all'interno dello sport come materia vera di studio, sarà difficile, perché la strada non esiste più, ma non esiste più non solo da noi, la strada non esiste più neanche in Croazia, in Slovenia, in Austria, cioè la fanno sport e scuola e finché non hanno fatto sport non escono da scuola. La strada, questo è un problema che hanno tutti, solo che noi dobbiamo cominciare a pensare di risolverlo. Valietti, parto dall'ultimo, Valietti, vostro giocatore. Valietti è un giocatore che io ho convocato già nell'Under 18, è un giocatore di buona gamba, un esterno di destra che può fare sia il quarto che il quinto, è nato da difensore centrale nei giovanili dell'Inter, ma dopo, verso la primavera, l'hanno spostato sulla fascia laterale, è un giocatore di grande applicazione, di grande corsa, che ha delle qualità e è uno di quei giocatori che in quella zona di campo noi ci contiamo. Tonali l'ho convocato per la prima volta al turno Elite l'anno scorso, che abbiamo vinto a Lignano Sabbia d'Oro. aveva già fatto un paio di presenze in Serie B al titolare, l'avevo seguito in quelle due presenze. È un ragazzo che ha fatto bene adesso anche con l'Under 19, ma è un ragazzo che può ambire a palcoscenici importanti perché ha forza fisica, ha una buona capacità di intuire il gioco, gioca semplice, in un ruolo davanti alla difesa dove serve a giocare semplice. È un ragazzo che, io ci credo molto, ha anche la grinta giusta, la determinazione giusta perché non è sempre facile trovare ragazzi adesso che hanno veramente quella voglia di arrivare, diciamo, sacrificando tutto. Lui è uno che è arrivato in Serie B e ci gioca come a giocarsi da 20 anni in Serie B. E questa è una cosa che non è facile trovare.